Musica Drangheta il doppio martirio di Celestino Fava senza giustizia dopo quasi 30 anni. A tele suonano la storia della 22enne vittima innocente di mafia a Palizzi, l'appello della madre Anna e di Mimmo Nasone di Libera. Chissà, parli. Omicidio Tutino, due arresti a due anni dal fallito caso di Lupara Bianca. Il corpo carbonizzato fu rinvenuto all'interno di un'auto fatta a bersaglio di colpi di fucile ed interrata a San Calogero nel gennaio 2022. Il procuratore di Vibo, Falvo, sottolinea il lavoro straordinario degli investigatori. Il colonnello Toti, la vittima, tratta in inganno ed uccisa. A Crotone arriva l'esercito. I carabinieri ed il team del comando delle forze operative terrestri dell'esercito italiano insieme per la bonifica del SIN di Crotone. Scatta la fase operativa necessaria a contrastare l'inerzia burocratica che ha ritardato l'avvio dei lavori. Olio nasce Dea Carolea, brand unico per il Dop Lamezia. In cittadella regionale è presentata l'etichetta unificata che accoglie gli oli provenienti da circa 20 produttori olivicoli localizzati in nove comuni dell'Interland Lametino. Buonasera, ben ritrovati. Inizia in modo sereno e si trasforma in tragedia, dando vita a un dolore che ancora oggi, dopo quasi 30 anni, non si lenisce e anzi aumenta con la richiesta in evasa di verità e giustizia. Inizia così il racconto di una mamma, Anna Zirilli, che descrive il suo celestino con toni insieme teneri e tristi a Telesuonano nel corso dell'intervista di Danilo Monteleone e Ugo Floro, andata in onda ieri sera sull'altro Corriere TV. Un esercizio della memoria, ma anche una rinnovata domanda di verità e giustizia dopo la fine prematura di uno straordinario giovane dal cuore d'oro, Celestino Fava, che il 29 novembre 1996 trovò un'orribile morte nelle campagne di Palizzi ad appena 22 anni, trucidato con un amico in un agguato in stile mafioso. Quel giorno mio figlio ha riconosciuto sicuro, sicuramente ha riconosciuto gli assassini. Perché gli assassini erano andati per l'amico? Sì, perché dove è rimasto Celestino, sulla macchina, non c'era altra strada, capite? C'era una strada secondaria, quindi la macchina è rimasta là. Celestino ha sentito qualcosa, ha sentito dei gridi, degli spari e stava per scendere dalla macchina. E non me l'hanno lasciato, perché l'hanno nella macchina, capite? Li avrà riconosciuti. Sì, di sicuro, perché non c'era altro. Dalilo, e se li avrà riconosciuti, erano della zona? No, sicuro. Beh, questo... Poi nessuno ha parlato, nessuno sa niente, nessuno... La vita va avanti in questo modo, senza giustizia e senza verità. Un'occasione per ricordare e rimettere in moto la macchina della verità. Con Libera è il migliore associazionismo rappresentato in studio, anche dall'autorevole voce di Mimmo Nasone. Don Ciotti ripete sempre ai genitori di Celestino, ma a tanti altri familiari che lui personalmente segue, che la verità cammina per le vie dei vari paesi. E fino a quando non si rompe il muro dell'omertà, perché c'è una quarta categoria di vittime di mafia, oltre a quelle che tu hai detto prima, che sono le comunità dove succedono queste cose. Che quello che è successo alla famiglia Fava, per Celestino, con il dolore, la tragedia, la non ragionevolezza, non è se l'è cercata. Lui purtroppo quella mattina non doveva uscire, è uscito per una normale passeggiata. Ma quello che è successo a Celestino, dobbiamo avere consapevolezza che può succedere a chiunque nei nostri territori. Da un omicidio ancora senza giustizia, ad uno invece è finalmente risolto. I carabinieri hanno arrestato due persone per la morte di Salvatore Tutino, il cui cadavere carbonizzato assieme alla sua macchina era stato ritrovato il 17 gennaio 2022 in località Calimera, a San Calogero, nel Vibonese. Sentiamo. I carabinieri del comando provinciale di Vibo Valenza hanno fatto luce sull'efferato omicidio di Giuseppe Salvatore Tutino, classe 61, il cui corpo carbonizzato è stato rinvenuto all'interno di un'auto fatta bersaglio di colpi di fucile ed interrata tra le campagne di Calimera, frazione di San Calogero nel gennaio 2022. Per la morte dell'uomo sono state arrestate due persone a Rosarno e Siracusa, uno dei due già detenuto per associazione mafiosa e associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, mentre l'altro ha precedenti in materia di armi. Le complesse attività di indagine partite a seguito dalla denuncia di scomparsa dell'uomo da parte della figlia hanno permesso di ricostruire la dinamica e le cause della morte tipiche delle esecuzioni di matrice andranghetistica, l'esplosione ravvicinata di numerosi colpi d'arma da fuoco, l'agguato mediante inganno per indurla ad allontanarsi dalla propria abitazione e l'eliminazione del cadavere per non lasciare tracce. I due presunti autori dell'omicidio che conoscevano molto bene la vittima in concorso con altri soggetti da identificare avrebbero infatti impiegato dei mezzi meccanici per eseguire le operazioni di scavo di una buca all'interno della quale successivamente avrebbero collocato e dato alle fiamme l'autovettura nella quale c'era ancora il cadavere al fine di farlo sparire definitivamente. Evento scatenante dell'omicidio sarebbe stato un debito di qualche decina di migliaia di euro che la vittima vantava nei confronti di uno dei due indagati per motivi legati alla produzione di sostanze stupefacenti. L'omicidio è maturato nell'ambito di un debito per sostanze stupefacenti. La vittima conosceva gli autori, è stata tratta in inganno, quindi da Rosarno è stata portata in località Calimera e lì è stato ucciso con due colpi di fucile calibro 12 e poi il corpo è stato dato alle fiamme insieme all'autovettura. Quindi si tratta di un tentativo di lupare bianca. Fortunatamente per le investigazioni gli autori non sono riusciti a sotterrare l'autovettura con il corpo carbonizzato e quindi sono partiti di attività in indagine. Un'indagine lunga e complessa, l'ha definita così il procuratore di Vibo Valencia Camillo Falvo. Allora ascoltiamolo, ascoltiamo le sue parole. Un caso che in ipotesi doveva arrestare di lupare a bianca. Siamo stati fortunati. Di solito gli omicidi si risolvono nelle prime 24-48 ore. Qui siamo partiti con un po' di ritardo perché la scoperta del corpo, perché stanno tentando di sotterrarne appunto il corpo dopo l'omicidio, è avvenuto a distanza di un mese. Per cui è stato tutto un po' più difficile. Abbiamo dovuto fare una serie di indagini complesse di ricostruzione al ritroso con una serie di dati e diciamo abbiamo utilizzato le migliori professionalità che i carabinieri hanno nel campo delle investigazioni perché ad un certo punto abbiamo chiesto, ottenuto e gli ringrazio la professionalità del reparto per le investigazioni sui crimini violenti del ROS di Roma oltre ai reparti del comando provinciale dei carabinieri di Vibo Valencia. E quindi, diciamo, per fortuna si sarà inceppato qualcosa quando stavano sotterrando il corpo per cui a distanza di un mese lo abbiamo rinvenuto, carbonizzato all'interno dell'autovettura. L'ipotesi che noi abbiamo percorso è che sia stato ucciso nei pressi nelle vicinanze dove poi è stato ritrovato il corpo. Ed ora a Crotone dove scatta la fase operativa per la bonifica del SIN di Crotone, Cassano e Cerchiara di Calabria. Su richiesta del commissario Errigo sono arrivati in città i militari del comando delle forze operative terrestri dell'esercito italiano, ma anche i reparti ambientali dell'arma dei carabinieri. Non solo i militari del comando delle forze operative terrestri dell'esercito italiano, ma anche i reparti ambientali dell'arma dei carabinieri hanno risposto positivamente alla richiesta del commissario straordinario di governo per la bonifica del SIN di Crotone, Cassano, Cerchiara di Calabria e Emilio Errigo di partecipare al sopralluogo congiunto delle aree SIN di Crotone. Previsto per la giornata di oggi, si tratta di un concreto ed evidente segnale di impegno della struttura commissariale per coordinare, accelerare e promuovere la realizzazione degli interventi per la bonifica e riparazione del danno ambientale del sito contaminato di Crotone. La creazione di questo team, altamente e tecnicamente specializzato, favorirà l'avvio della fase operativa che è necessaria per contrastare l'inerzia burocratica che troppe volte ha ritardato l'effettivo inizio della bonifica nella città di Crotone e nell'intera provincia. Ho chiesto, così come prevede il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di potermi avvalere delle forze specializzate dell'arma dei carabinieri, delle forze specialistiche, delle unità specialistiche dell'esercito per eseguire una serie di sopralluoghi e ricognizioni finalizzate ad accertare se nelle aree a terra, 530 ettari a terra e a mare, 1.448 ettari, compreso 132 ettari di porto, il livello di contaminazione è talmente alto da esigere, da chiedere o fare intervenire in necessità e urgenza intervento di altre unità specializzate delle forze armate o di altre unità specializzate delle forze di polizia delle quali mi possa avvalere per decreto per assicurare la salute dei cittadini di Crotone e di quanti vivono o hanno intenzione di vivere o godere delle bellezze di Crotone. E rimaniamo a Crotone dove la Wilpa ha aperto l'ufficio salute e previdenza e rivolto alla personale della difesa, ai vigili del fuoco e della polizia penitenziaria. La Wilpa, Unione Italiana Lavoratori di Polizia e di Amministrazione, ha aperto a Crotone uno sportello dedicato alla salute e prevenzione. Si tratta del secondo nel territorio italiano dopo quello aperto a Foggia. L'ufficio è rivolto al personale della difesa, ai vigili del fuoco e alla polizia penitenziaria. Intende offrire supporto gratuito da parte di professionisti nel campo della sicurezza, sul lavoro e della salute. Ad annunciare l'apertura dell'ufficio è stato Fabio Tomaino, segretario generale Wil Crotone, nel corso di un incontro nella sede di Feni Imprese. Intanto lo scopo della Wil di Crotone è quello di rafforzare i servizi all'utenza, alle persone e agli iscritti. In questo caso si rivolge alla categoria di lavoratori della difesa, della polizia penitenziaria e dei vigili del fuoco. Categorie soprattutto quest'ultime, spesso trascurate o addirittura dimenticate dalle istituzioni e dal legislatore, soprattutto in ambito assicurativo. Da qui l'idea della Wil pubblica amministrazione è di istituire l'ufficio Salute e Previdenza, che tratterà con un personale altamente specializzato pratiche di causa di servizio, di pensioni, assistenza ai trasferimenti e in caso estremo anche di vittime del lavoro. Oggi per noi, per i vigili del fuoco, è un momento importante, perché si tocca a un tema delicato, il tema è il tema della salute. Quindi c'è l'inaugurazione per l'apertura di uno sportello d'ascolto, proprio riferimento a queste problematiche, quindi problematiche legate a quelle che sono in particolare i riflessi del nostro lavoro sugli aspetti della salute che purtroppo vengono toccati quotidianamente, di cui il personale soffre ovviamente una carenza di assistenza da un punto di vista amministrativo, diciamo così, per la loro tutela. Ed ora ci spostiamo invece in cittadella regionale, dove nella giornata di ieri è stata presentata l'etichetta unificata Dea Carolea, marchio del consorzio Lamezia DOP, che accoglie gli oli provenienti da circa 20 produttori olivicoli localizzati in 9 comuni dell'Interland Lamettino. Dea Carolea si chiama così la bottiglia che accoglie gli oli provenienti da circa 20 produttori localizzati in 9 comuni dell'Interland Lamettino. L'iniziativa lanciata ieri in conferenza stampa a Catanzaro vede come protagonista il consorzio DOP Lamezia, che prosegue l'azione di promozione e valorizzazione della Carolea, una delle cultivar più diffuse ed apprezzate dell'intero ed ingente patrimonio olivicolo calabrese. La bottiglia ed il marchio unico completano un percorso avviato molti anni fa. Abbiamo attuato un qualcosa, un percorso che probabilmente in Calabria ancora nessuno aveva fatto, quello di unificare sotto un unico ombrello, sotto un'unica etichetta, un gruppo di olivicoltori noti per essere assolutamente individualisti. E quindi è una prima volta in Calabria che mi auguro non resterà a livello singolo, ma che vada avanti su questa linea anche per il futuro. Un risultato salutato con soddisfazione dalle organizzazioni di rappresentanza del settore agricolo. È un percorso di assoluto interesse perché tende a fare quello che serve per valorizzare questo splendido prodotto che per troppi anni abbiamo venduto allo Stato sfuso. Oggi c'è la possibilità, anche attraverso questa iniziativa, di imbottigliarlo e dargli un'identità. La collaborazione tra aziende rappresenta per il Dipartimento regionale agricoltura una delle chiavi per irrobustire e rilanciare il settore agricolo ed agroalimentare calabrese. La cooperazione è fondamentale, i consorsi sono un elemento importante per fare in modo che i nostri produttori stiano insieme e siano anche più forti rispetto alle difficoltà del mercato. Abbiamo un piano olivicolo che adesso abbiamo definito insieme al Crea e che ci dirà cosa faremo nei prossimi anni della nostra olivicoltura, che è il Lab del settore agricolo calabrese. E poi una serie di iniziative con investimenti anche nel PSP che ci porteranno ad investire 50 milioni di euro per un rinnovo varietale. Oltre il bando sui frantoi, le misure sulla promozione, anche una revisione della legge di tutela sugli olivi affinché non sia una camicia di forza. Quindi un programma a 360 gradi. Infine lo sport con il Crotone che torna al successo battendo di misura in trasferta in la Messina nel turno infrasettimanale in Serie C. Una vittoria che serviva decisamente alla squadra di Baldini per rialzare la testa. Tutti noi ci auguriamo che questa vittoria sia la scintilla per cominciare a poter esprimere meglio il nostro potenziale. e quindi, come ti ripeto, le vittorie sono quelle che ti danno l'autostima, ti mettono in condizioni di avere più serenità quando devi giocare e avere più fiducia nei tuoi mezzi. Quindi è la classica vittoria che è avvenuta come il calcio sui maccheroni. Quindi veramente ci voleva per essere bella. Ma il Messina è una squadra molto organizzata perché è un allenatore molto bravo. Modica è una persona che fa del gioco del calcio non la speculazione, ma cerca di arrivare al risultato con delle idee. Lui è uno dei più bravi allenatori che sono in Serie C e quindi è normale che la sua squadra avrebbe avuto sul campo l'opportunità di metterci in difficoltà. Però noi siamo stati bravi a stare equilibrati, stare al nostro posto, aspettare che la partita si invocicesse in determinato modo. Per il momento è tutto, ci fermiamo qui. Vi ringrazio come sempre per essere stati con noi. Appuntamento alle prossime edizioni della TG, dell'altro Corriere TV. Buon proseguimento. Grazie a tutti. Grazie a tutti.